Per tagliare paramontura prendo la giacca e posiziono sul tessuto. La lascio piegata in due senza togliere spilli, così finché i bordi non sono lavorati c'è meno rischio di sformarli o di slabrarli. Posiziono sul tessuto la parte del davanti e devo tracciare il contorno del bordo del centro del davanti. Traccio in parte il contorno della spalla, del bordo del reverse e anche l'orlo. Qui ho messo segno, ma non c'è bisogno, perché questo segno del reverse abbiamo sulla giacca, sul diritto della giacca. Così, ora tolgo la giacca, misuro sulla spalla 5 o 6 cm. Considerate che quando paramontura è cucita dovrebbe essere sui 4 cm, mentre in fondo 8-10 cm larghezza di paramontura. Dopodiché devo unire in questa zona questi due punti con una linea un po' curva all'interno. questo è importante, perché sennò tira, perché in questa zona troviamo il seno, sporgenza del seno e esattamente qui dobbiamo disegnare questa linea un po' curva. Mentre dalla spalla e oltre alla metà, ecco qui la linea un po' curva verso interno. Dobbiamo scavare un po', mentre altrove le linee sono dritte. Paramontura è necessario di rinforzare con teletta adesiva, è obbligatorio assolutamente. Io prendo adesivo di cotone di medio spessore, media pesantezza, ecco, si vede la mano, è un pochino traspare per farvi capire. Posiziono sempre doppia paramontura, tutti e due pezzi così come ho ritagliato. Dritto filo assolutamente deve coincidere con dritto filo di paramontura, ossia deve essere verticale, così come nella giacca. Metto spilli e ritaglio. Per incollare adesivo, come sempre, ormai lo sapete, non dobbiamo dividere i pezzi, in questo caso paramontura, rimangono tutti e due i pezzi. Dobbiamo togliere spilli e cominciamo da un lato ad applicare il nostro adesivo. Posizionate bene con le mani, aggiustate teletta e coprite con panno per stirare. Inumidire il panno e cominciare piano piano a incollare il nostro rinforzo. Ricordiamo che il ferro all'inizio non viene mosso, dobbiamo aspettare che la colla si scioglie bene. Qui controlliamo se non ci sono bolle, in effetti non ci sono. Giriamo e la stessa cosa facciamo con altra paramontura. Poi i bordini, se esce un po' fuori, teletta adesiva, rifiliamo dopo. Posiziono, aggiusto per benino, che non ci sono grinze, questo è importante. E incollo anche da questa parte. Paramontura è pronta. Si incolla un po', però, questo eccesso di adesivo. E adesso ritagliamo un pezzettino di paramontura per scollatura del dietro. Quindi, sempre la giacca, il dietro della giacca, posiziono sul tessuto piegato in due, centro del dietro, verso ripiegatura. Traccio contorno, spalla e scollatura. Dopo, tolgo la giacca, ora guardate, larghezza sulle spalle di paramontura deve coincidere. Quindi, io faccio questo. Posiziono la parte della spalla di paramontura del davanti, verso quella del dietro. E così, larghezza è la stessa. Dopodiché, misuro tutta quanta larghezza. Di questa paramontura, di questa, diciamo, mascherina. Dovete sempre aggiustare linee con curvilinee o le righe, perché la forma deve essere giusta. Di nostri dettagli, ritaglio. E dovrei sempre rinforzare con teletta adesiva. Piegata in due, posiziono verso ripiegatura e ritaglio. Fermo con due spellini. Perfetto. E dovrei sempre aggiungere le righe. Piegata in due, posiziono versi la caliente. Piegata in due, posiziono verso il febri. Piegata in due, posiziono versi. Piegata in due, posiziono versi. ricordiamo che rinforzare dettagli bisogna sempre ora devo sorfilare il bordo lo faccio subito ma si può fare anche dopo se desiderate persino quando tutto è cucito io ho sorfilato subito sia paramontura del dietro che del davanti posiziono paramontura dobbiamo eseguire una cucitura fino al segno sul reverse dopodiché quel pezzetto di paramontura in prossimità di scollatura deve essere libero perché dopo qui dobbiamo cucire collo ho cucito e ho stirato le cuciture qui dove finisce cucitura dobbiamo tagliare margine in modo verticale facciamo un taglio che non arriva a un millimetro dalla cucitura questo permette di rivoltare bene reverse e a ritagliare margini di cucitura mentre in zona della scollatura questo margine dovrebbe restare di un centimetro perché ci serve per cucire collo ora per far sì che questa paramontura non esce fuori dobbiamo fissare con una cucitura i margini o dal diritto oppure dall'interno io preferisco fare questo dall'interno quindi dobbiamo girare il margine di cucitura tutte e due verso paramontura e realizzare una cucitura a distanza di un centimetro fino a fino alla parte delle reverse diciamo ecco dalla linea del reverse non dobbiamo arrivare a di un paio di centimetri mentre da questa parte dobbiamo cambiare perché reverse si gira si apre e dobbiamo fare questa cucitura dalla parte opposta così che rimane sotto e non sarà visibile facciamo questa cucitura diciamo tutto reverse impossibile ma soltanto una parte fino a che possibile arrivare con la macchina sempre a distanza di un millimetro dalla cucitura dalla ripiegatura ecco così si piega reverse cucitura rimane sotto il davanti è uguale in questo modo né paramontura né la parte del reverse non escono fuori che è una cosa molto antipatica non è professionale ora dobbiamo rifilare questo margine fino a 2 3 mm dalla cucitura e cominciamo tagliare facendo attenzione a non tagliare la giacca qui abbiamo qui abbiamo la cucitura ci avviciniamo quasi alla cucitura così per rivoltare bene il margine deve essere tagliato piccolo piccolo mentre sulla scollatura deve rimanere sempre un centimetro attenzione e anche qui abbiamo margine tutto rifilato possiamo rivoltare qui per girare da una parte dall'altra margini dobbiamo fare una piccola incisione piccola piccola incisione verticale di questi due margini perché reverse va da una parte e paramontura il resto di paramontura dall'altra parte adesso dobbiamo rivoltare molto bene e stirare stiriamo dal lato dove abbiamo la cucitura diciamo dal lato sottostante questo reverse ecco fin qui abbiamo potuto cucire e anche qui vedete una cucitura all'interno tutto stirato avvicino ancora di più e adesso pieghiamo sulla linea con punti lenti questa è la linea di ripiegatura di reverse che dobbiamo stirare molto bene per fissare reverse in questa posizione così ho stirato attraverso panno ovviamente per non lasciare tessuto lucido e così abbiamo reverse lavorato e poi cucire anche paramontura di scollatura del dietro ora nostra scollatura è pronta per cucire collo che sarà cucito tra paramontura e la giacca